Sì, come state? Maxibon mi ha invitato tramite DM a raccontarvi una mia personale esperienza durante la quale sono andato in bianco in occasione dell'uscita del nuovo Maxibon bianco con cereali al cacao ecco, ne ho una in mente e mi sembra proprio il momento adatto per raccontarla ero le superiori e avevo studiato un sacco per la verifica di scienze cosa che succedeva davvero raramente arrivo in classe, sicuro di fare un bel figurone la prof ci dà la verifica, io la leggo la completo e passo tutta l'unica l'ultima mezz'ora a ricontrollarla convinto di aver preso un bel 10 per maggiori dettagli non perdetevi il post che farò uscire tra poco devo ammettere che ogni tanto piango ripensando a questo episodio ma per fortuna c'è il nuovo Maxibon bianco con i cereali al cacao ero in quarta superiore stava per iniziare la verifica di scienze e avevo studiato tutto il giorno prima volevo prendere un bel voto a tutti i costi per alzarmi la media appena la prof mi porge le domande io inizio cattivissimo cercando di fare più in fretta possibile a mezz'ora dalla fine avevo già finito tutto trascorro il tempo restante sghignazzando fiero del mio 10 assicurato verso gli ultimi due minuti mi accorgo che mi ero dimenticato di girare la fotocopia e rispondere anche alle domande sul retro alla fine consegno metaverifica totalmente in bianco completamente bagnata dalle mie lacrime di disperazione morale controllate il retro delle cose io da te voglio soltanto amicizia amicizia grazie a tutti